I carabinieri di Caltagirone questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti. L'ordinanza è scaturita da un'indagine coordinata dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Catania nei confronti degli arrestati, una coppia di coniugi ed un uomo 42enne. Durante l'indagine è emerso che il padre e la madre hanno utilizzato la loro giovane figlia come merce di scambio per ottenere cibo e denaro, costringendola ad avere una relazione sentimentale fatta anche di rapporti sessuali con l'uomo 42enne. A seguito degli arresti, i tre figli minori che la coppia ha lasciato sono stati collocati in comunità educative.